No a un autosilo interrato in Viale Varese. Il sindaco di Como, Mario Landriscina, boccia la proposta che di fatto era già stata accantonata, non senza polemiche, dalla precedente giunta. Ma ipotizza anche un intervento sui posteggi raso in Viale Varese per aumentare la possibilità di sosta. Mi viene da dire che l'autosilo lì diventa veramente un grosso problema. Ci potrebbero essere degli accorgimenti senza intaccare tutta l'area giardini che stiamo valutando per vedere se si può migliorare la quantità di sosta in maniera ragionata. Dopodiché però bisogna capire come reagirà il mercato e la situazione posteggi una volta che ancora per la terza volta entro su questo tema, avete capito che è una grande speranza, si riaprisse una credibile e sostenibile fattibilità dell'area exticosa. Però sulla domanda dell'autosilo interrato in questo momento la risposta è no. Magari, se ho ben capito, un ridisegno della sosta in superficie di quell'area. Di tutto quell'area si può pensare, qualche considerazione la stiamo facendo, perborrestando che questo abbia comunque una possibilità sostenibile di realizzare l'opera che non penalizzi assolutamente il verde, le piante e tutto il resto, alla luce però dell'altra opera. Poi sempre in quell'area c'è comunque un progetto che è portato avanti nell'area Gallio, ci potrebbero essere anche altri sbocchi interessanti poco oltre, perché poi abbiamo parlato di Politeama, se andasse anche quel pezzo lì comunque la zona va servita. Grazie. 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 Grazie.